Aveva messo a segno un maxifurto di gasolio dai mezzi di un cantiere per un valore totale di circa 1.500 euro. Adesso i carabinieri della compagnia di Cortona, al termine di un'articolata attività di indagine, hanno denunciato a piede libero un 27enne rumeno residente a Sena Lunga per furto aggravato e continuato. I militari hanno infatti notato dei movimenti sospetti di auto nei pressi del cantiere all'interno del raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Interpellato il titolare, dopo aver svolto alcuni controlli, si è quindi accorto della mancanza di diversi litri di benzina prelevati dai mezzi d'opera lasciati in sosta nelle ore notturne. In seguito alla denuncia si è poi potuto appurare che l'ammanco ammontava circa 1.000 litri di carburante per un valore di 1.500 euro. Le ricerche e le indagini subito scattate hanno permesso ai carabinieri di intercettare durante un servizio notturno un mezzo che si allontanava velocemente dal cantiere. Dopo essere riusciti a risalire alla targa è stato identificato il proprietario del mezzo che al momento si trovava in arresto per furto perpetrato nel Senese. Sono state quindi effettuate delle perquisizioni locali nell'abitazione dell'uomo e grazie anche ai riscontri delle immagini registrate dai circuiti di video e sorveglianza sono state trovate nel garage dell'abitazione le taniche, i tubi e i vestiti che il 27enne aveva utilizzato per effettuare i numerosi furti che si sono verificati nella zona dal novembre 2020 all'aprile 2021.